Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke e bentornati a questa 36esima puntata di Minecraft con Modpack Walls Bene ragazzi, allora, nella scorsa puntata, facciamo una piccola introduzione, siamo andati nell'inferno ma non abbiamo fatto granché, abbiamo preso solo la glowstone e grazie a questa glowstone oggi possiamo potenziare ancora un pochettino il nostro power tool che fa sempre parte del pacchetto Modular Power Spitz Allora, vediamo subito cosa possiamo fare, io comunque ho già più o meno qualche idea Allora, intanto ci sono i zombie di sottofondo Allora, io avevo intenzione di fare, come prima cosa mi volevo togliere la curiosità di questo crafting table portatile perché veramente ce l'ho lì, cioè è stato quello lì la prima cosa che mi ha detto vai a prendere la glowstone nell'inferno perché serve per fare il control circuit Poi volevo fare anche l'acqua affinity e volevo fare il... non so se riusciamo a fare anche il multimetro se riusciamo a fare anche il multimetro faremo anche il multimetro e poi volevo metterci l'advance battery la batteria avanzata per il semplice motivo che uno, mi è stata consigliata moltissimo da voi e due, veramente visto che l'altra volta sono rimasto a secco con la batteria non voglio rimanerci di nuovo Allora, per la serie chi prima commenta, prima viene salutato volevo salutare Necromante e poi le altre persone le salutiamo dopo a fine video ragazzi, non sono razzista Allora, cosa facciamo per prima cosa? Io consiglierei di fare subito il crafting table che ci vuole un crafting table per l'appunto e un control circuit il control circuit però che non mi ricordo come si faccia vediamo un po' control circuit allora, ah si, ci vogliono due control circuit di quelli normali che facciamo sempre due wire, una glowstone e due redstone allora, dovrei aver già pronto se non faccio tutte figure allora, ah finalmente useremo anche il silver poi vi farò vedere allora, dobbiamo fare due enrich ed alloy otto e poi 12 no, mi sa che ho sbagliato va bene 2 enrich ed alloy 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 per fare il control circuit ovviamente e si, ci va lo, lo, osmium come si chiama? osmium, si adesso hanno aggiornato la chiamano osmium ah, poi c'è un aggiornamento che vi devo dire per quanto riguarda per l'appunto l'aggiornamento di questo modpack allora ci vogliono due wiring wire, wiring no, weering vabbè, quello wii, 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 wii si, nintendo wii allora una glove stone ok, vediamo un po' se me la ricordo 1, 2 un po' più lungo, no? ok control circuit prendiamo la crafting table e andiamo subito a provare magari dopo ce la facciamo facciamo anche una scappatina nell'inferno nel nether che è stato craftato è stato veramente spavonato veramente bene in place assemble install ok adesso il problema è come funziona e io come un furbo non lo so allora facciamo una cosa io se non sbaglio ho detto in giro che si fa con shift e right click oh, si perfetto abbiamo una crafting table portatile perfetto quindi tenendo premuto shift e poi facendo right click quindi si perché io parlo in inglese tenendo premuto shift e poi premendo il tasto destro si apre la crafting table comodissima portatile ah ma aspetta perché c'ha c'ha due crafting table perché io non avevo visto che avesse se vedete sopra la barra dell'esperienza dove c'è l'armatura c'è il segno della crafting table però ne ha tre chi sa perché non vorrei che si possa cambiare ah vedete ragazzi cambia ah forse perché se teniamo premuto shift e giriamo la rotellina possiamo cambiare oggetto da far fare col tasto destro sì perché non bisogna sì 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 ecco 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 perché se premiamo tasto destro ragazzi non è necessario premere shift e tasto destro per farlo partire praticamente con shift e rotellina si cambia oggetto e invece soltanto col tasto destro si apre l'oggetto per l'appunto scelto allora adesso però voglio togliermi la curiosità più grande voglio fare mode in place assemble ecco sì perché adesso è stato selezionato l'in place assemble assemble allora adesso io vorrei provare l'acqua affinity perché veramente sono curioso facciamo un motor servo che non mi ricordo manco quello come si faccia allora se non sbaglio erano due wiring e un cavo o qualcosa del genere allora servo che non sono non sono gli schiavi allora ci vogliono due solenoidi un ferro e un control circuit ecco che ho fatto gli altri due solenoidi quindi ce ne vogliono dodici uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici perché tredici allora e sei ferri perché otto ma io ne clicco sei ragazzi allora va bene un due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e dodici uno due uno due uno due tata facciamo un enric e dan loi uno due e tre ecco qua ecco qua il servo allora io però prima di installare l'acqua finiti vorrei andare a provare perché magari sono quei pacchi che ti vendono al mercato che non funzionano allora spaccando fuori dall'acqua si ha un lavoro abbastanza veloce dentro l'acqua ok un po' più lento e bene allora andiamo subito che sennò poi mi scordo devo sistemare bene qua fuori allora ta acqua finiti install ah pure la velocità qua 11 joule vabbè tanto questo è solo sotto l'acqua facciamo 40% 40% allora andiamo fuori vediamo un pochettino se funzia si 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 funziona ragazzi alla grande anche perfetto perché ho rotto questo scalino vabbè fa niente allora quindi funziona allora andiamo via adesso possiamo craftare craftiamo subito una bella adesso non so allora se dobbiamo craftare multimetro abbiamo bisogno di un solenoide e e due wiring wiring vediamo un po' se ne avevo già predisposto per fare due wiring non lo so non lo so non lo so allora facciamo una cosa per sicurezza facciamo subito la batteria si che tanto abbiamo fatto una batteria di quelle rosse che non mi ricordo come si chiama mv facciamo così sembra un fungo un mezzo brufolo con due spinotti qualcosa sembra che schifo allora sono due wiring e un advanced battery finalmente utilizzeremo il silver 5 di silver e 2 di glowstone perfetto non facciamo lo stesso errore che facciamo di solito quindi la batteria la mettiamo subito allora due la mettiamo subito nel crafting table no adesso devo provare la crafting table portatile allora due no devo craftare prima la batteria uno due tre quattro cinque due glowstone advanced battery quindi possiamo fare anche qualche batteria avanzata adesso visto che è abbastanza semplice perfetto e due wiring perfetto mv capacitor installiamo la nuova batterozza questa qua però penso che vada disinstallata vabbè disinstalliamola così mi faccio vedere anche che ah no è vero perché io già le ho eliminate si è vero non me l'ha data perché già le avevo eliminate che avevo detto che c'era quel bug che nell'aggiornamento aveva tolto tutto quello che avevo dentro il tinker table allora install perché non posso reinstallarla adesso infatti perché non ne ho più allora installiamola oh potevo vedere il peso avevamo detto intorno ai cinque chili no c'erano già due chili cento kilo jaul che è già il doppio mettiamole cinque chili azzi quattro cinque zero allora dai piano piano adesso è preciso vabbè chi se ne frega quarantanove vabbè cinque zero due va bene così mi stava prendendo la tremarella al gomito già abbiamo però oh ragazzi duecentocinquantuno kilo jaul duecentocinquantuno virgola k ma che no non lo devo cambiare non mi piace perché virgola k allora duecentocquarantanove preferisco così allora duecento e però se voi fate caso lì a destra a sinistra scusi a notte a sinistra già però ci sono cento kilo cento chili cento kilo jaul di energia già caricati noi ovviamente però andiamo a caricare bella duecentocquarantanove duecentocquarantanove carica dai voilà che sono praticamente cinque dieci quindici venti venticinque e la batteria cinque volte rispetto all'LV capacitor e avevate pienamente ragione perché è economica da fare se ovviamente già siamo andati all'inferno ed è veramente potente rispetto alla batteria di prima ed è più leggera allora dovremmo avere un solenoide si dovremmo riuscire a fare il solenoide cosa serviva per fare il multimetro perché il multimetro se ci viene bene se non fa niente un solenoide e due weering vediamo un po' dovremmo riuscire a farlo un solenoide si ci vogliono altri tre di ferro dai ok facciamo ce lo dovrei avere già i dust un due tre facciamolo così noi non lo troviamo si perché se non sai si si è giusto giusto soltanto il ferro manca ragazzi veramente sono contento davvero per questa mod devo dire che le mie preferite che non potevano mai mancare in un modpack erano la railcraft e la red power che purtroppo in questo modpack non c'è però ce ne sono altre belle e adesso anche questa qua è entrata fortunatamente la modular power switch è entrata anche nelle nelle mie preferite quindi è una di quelle che non può mancare all'interno di un modpack secondo me poi sono ma perché ne ho fatti i sei di ferro ma bastavano ma sono ignorante sono questa è l'emozione della modular power switch ecco cioè era tutto perfetto adesso c'è 3 lingotti di ferro in più che ignorante allora se facciamo il multimetro dovrei ho detto che c'è tutto si ok multimetro installiamolo installato perfetto io adoro quando non c'è niente da configurare qua dentro nel blocco tinker qua allora andiamo a vedere un po' se i cavi qua non dovrebbero darmi niente secondo me quando c'è movimento aspetta quindi adesso come devo fare shift eccolo qua multimetro ecco ragazzi vedete che si girano multimetro adesso è come multimetro infatti se dovesse andare nel tinker table penso che mi dica ecco mode multimeter ok quindi cevo a cliccare col tasto destro 0V 0A 0W 0K tutto ma tutto manca allora andiamo giù andiamo a vedere giù che sicuramente sta caricando la batteria no è già carica ah no eccolo qua 240V 18,37kW e a 3A perfetto si perché qua sta continuando a girare la batteria però da qua visto che non c'è niente forse microA si perché cos'è meno in questa batteria però da qua poi dopo penso che non ci sia niente infatti si ragazzi perché nelle batterie circola una certa energia strana nel senso che anche se sono già cariche e se se andate qua cioè continua vabbè a parte il fatto che qua sta ancora caricando però è una cosa strana nel senso continua sempre a girare dell'energia vedete se infatti voi fate caso è 4,99 anziché 5 stessa cosa qui e non lo so penso che sia una cosa normalissima non è un bug quindi allora saliamo su allora un'altra cosa ragazzi che vi volevo dire per quanto riguarda ecco per chi sta seguendo questa puntata soltanto per il per il power tool per l'aggiornamento del power tool ho concluso per l'aggiornamento per oggi facciamo soltanto questi 3 aggiornamenti e una cosa che adesso vi volevo dire e vabbè a parte a salutare cosi2000 e diego sabina che hanno dato dei consigli nei commenti veramente utili e e soprattutto che l'alambicco che l'avevo chiamato io sarebbe il brawing tool che non mi veniva mai in mente grazie mille ragazzi e una cosa che c'è in questo aggiornamento che non me ne ero accorta ma me ne sono accorta solo oggi è che innanzitutto se passate col tasto destro sopra i crate passate con l'indicatore con la croce sopra i crate vi dice la quantità quindi anche se la faccia è nascosta magari se puntate da sopra ecco vi dice tipo gravel 618 le parti sopra e sotto sono state totalmente cambiate perché infatti adesso c'è soltanto una cosa sola se ci clicco col tasto sinistro li prende e basta in generale non c'entra sopra o sotto ecco perché ho messo pausa per sbaglio perché non mi riempie anche se prendo da sotto di sopra non mi riempie tutto l'inventario e se premiamo col tasto destro sempre la stessa cosa ovunque toglie uno stack soltanto alla volta adesso non so perché non me le seleziona più da soli come al solito voilà però ok molto più semplice a me ne evitiamo di impallarci ogni volta che se sbagliamo c'è tutta la roba dentro l'inventario va benissimo così cosa hanno aggiunto anche che hanno fatto e li dovremo fare nelle prossime puntate se noi lo scriviamo crate hanno fatto tre crate basic crate advanced crate e elite crate e light crate io ancora ragazzi non lo so perché non l'ho ancora craftati ma visto che penso che ne farò uno per la netherrack e si netherrack e che non è rack che devi sputare netherrack o di raccare di vomitare ecco quindi un'altra cosa quando li faremo vedremo la differenza tra i tre allora ragazzi io proporrei visto che nella scorsa puntata non siamo arrivati alla fortezza dell'inferno di perdere magari 10 minuti e arrivare alla fortezza perché ho trovato una microstrada ovviamente se non moriamo vediamo un po' se c'è una roba importante da posare no ok quindi stiamo cominciando ad andare di nuovo avanti con l'armatura nella prossima puntata sicuramente faremo un pezzo già dell'armatura e che non vi anticipo qual è ma è già nella mia testa da scivolo ce l'ho e niente allora ragazzi andiamo all'inferno con tutto il rispetto oh ragazzi mi raccomando vi ricordo che se trovate gli slime dell'inferno che non mi ricordo mai il nome raccoglieteli perché servono no c'è lo stronzio laggiù ecco visto che nella scorsa puntata è venuto veramente scuro ammazziamolo l'importante è che non mi deve vedere c'è quello che c'è le scoriegi incastrate allora perché con shift se mi vede c'è il gas laggiù tanto lo so che mi vede eccolo faccia di cazzo i ragazzi se avete notato l'inferno sono impedito eh adesso che se ne è andato ovviamente come la mollo la freccia senza ma perché hanno fatti i ghast cioè preferisco più un creeper di un ghast facciamo una cosa cerchiamo di entrare dentro la fortezza e via dicevo negli scorsi video ho visto che è un po' scuro cercherò di procurarmi un po' di torce via andiamo dentro qua siamo salvi per il momento dal ghast allora torcia ce n'è una sola inutile che la spreco ragazzi andiamo a vedere cosa troviamo dentro sta fortezza allora mi sa che per uccidere adesso io devo provare ancora sta manina perché non lo so quanto ammazza eccolo apriamo subito no ci mette troppo quindi qua ho paura di prendere voilà ci lasciamo la spada questa qua che è meglio la spada ruginita allora dobbiamo trovare dobbiamo trovare i blades sempre che non ci ammazzino prima loro di solito sopra sti cose ci sono gli spawner dei blades ragazzi è scorissimo io vi chiedo scusa umilmente però non posso farci niente non ho le torce dietro non ho neanche il carbone quindi non posso neanche craftarle nel prossimo video o comunque quando andremo all'inferno di nuovo farò le torce sono un po' preso voi tanto lo sapete che quando andremo dell'inferno sono preso laggiù ci potrebbero essere cos'è? che figo cioè questo qua se non sbaglio se ci tiro una freccia cade tutto no perchè non cade? devo rompere un blocco va bene amen ecco uh magma slime vieni qua vieni qua vieni qua no ma perchè ti sei lanciato di sotto stronzo era pure bello grosso oh e di sotto non mi ci lancio ragazzi ma guarda era enorme vabbè scriviamo qua facciamo un punto magma slime c magma slime ok lasciamolo giallo moccio e andiamo ce ne do indietro wow allora blaze rod non se ne trovano blaze l'importante è che comunque abbiamo unito il diciamo siamo riusciti ad arrivare al portale eccolo lì qua mi ammazzano via fatti mangiamo sono morto i miei complimenti se non ritorno lì mamma mia mamma mia che ignorante facciamo una cosa prepariamoci una spada di pietra al volo una spada di pietra al volo legna come è la legna andiamo a mano così a coglionella devo prepararmi i power tool ragazzi per fare un casino assurdo ci devo ammazzare tutti quanti devo ammazzare ma a sto giro lì sono stata una boia a farmi ammazzare perché non dovevo stare così vicino ai blades però sappiamo che spawnano lì dai dai via 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 sarà sbagliato ragazzi devo andare giù con la spada devo andare giù con la spada assolutamente ho capito adesso dove sono dai prendo soltanto gli oggetti e me ne torno a casa perché si sta allungando il video e non voglio portarvi noi sì intanto lascio un albero mezzali scassato come non sistemo io sì ah e stavo dicendo c'è no coble lasciamo perdere uno due cosa sto facendo allora bastoncini findus perfetto spada di pietra e il resto la mettiamo qua dentro che moriamo di nuovo almeno possiamo ricraftarla guarda ragazzi solo per andare a prendere la roba una volta che ripeto una volta che si è andata a prendere la roba me ne torno la porta aperta perfetto e adesso però è comoda con la strada due secondi tt e arriviamo no 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 non ci pensare neanche te sento il qua la scorregge incastrata ma quanti ce n'è qua ci muoio qua ci muoio no no non è cosa ma perché giro sempre di qua ma perché non ce la faccio non ce la faccio non posso perdere il power tool non posso perdere il power tool non posso perdere il power tool mamma che nabbo mamma che nabbo è da una vita che non non posso perdere il power tool cioè l'avevo appena no dai l'avevo appena finito uno due si uno due guardate ragazzi sono ci sono troppi troppi blades ci sono troppi blades come ce l'arrivo laggiù come ce l'arrivo e dove arrivarci devo fare solo spade 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 ucciderli tutti quanti piano piano sperando che non ci spawnino è stata colpa comunque di quello scheletro che mi ha avvelenato quando sono morto la prima volta guardate come stanno come i pezzi di fango lo vimpa lo ammazzo tutti quanti eh se ovviamente voi ammazzate me e facciamo sempre spade allora uno uno due non so neanche quanto si sia prolungato questo video ragazzi quello è il fatto dai ci riproviamo ancora due volte e poi dopo di che lo faccio da solo perché non voglio non voglio allungare troppo il video ok i blades stanno scendendo giù di sotto l'importante è quello via cavolo ma ma perché si è incastrato via corri ok i blades non ci sono più l'importante è questo a parte sto stronzo via 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 era di qua no dai ce l'avevo fatto ho sbagliato strada vabbè l'importante è che quelli siano scesi giù e che ci stiano giù mamma mia aspetta si faccia una spada di farro ci perde anche questa fa niente dai non ci provo taglia di più andiamo allora ce la dovrei fare dai se i blades sono giù se i blades sono giù veramente mi va di fortuna e il fatto è che andavo lento andavo sarà che quando mi danno fuoco quelli stronzi la tu mi dai fuoco però io sto giro più meno non mi ha preso non mi ha preso non mi ha preso dai via pig cazzing sti pisalli rosa divisi ok io l'ho ammazzata lui intanto l'importante è questo adesso andiamo con un'altra spada e poi andiamo a prendere la roba speriamo che non siano passati i 5 minuti ragazzi speriamo che non siano passati i 5 minuti che sennò sono perso tutto e non so all'inferno se valgano i 5 minuti perché già ho visto che le altre spade non me le ha date più mi dispiace solo per il power tool vabbè lo ricrafteremo non è così tanto complicato però ragazzi questo questo è brutto di giocare in survival me l'aveva detta non mi ricordo chi Nicola Dorsi forse o Diego Sabina di attivare quei codici però così si gioca via via qua non c'è ne pubblico non c'erano tutti giù perfetto 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 dai si sta svuotando la prossima volta mi preparo un secchio d'acqua me lo porto dietro via qua c'è un altro blaze bisogna correre tu tu polpa tua via ok abbiamo preso anche un blaze oh ma allora sei tu che mi rompi il cavolo ma quanti ce n'è di scheletri qua ma dai su non li avevo visti non è giusto dai adesso ce la dovremo fare saranno 80 volte che lo sto ripetendo ma ce la devo fare perché ogni volta due stecchini mi porto allora andiamo ragazzi sto sudando ragazzi sto sudando mi farà schifo lo so però sto sudando dai portale dove mettete un overclock anche a tempo è troppo lento overclock qua il portale a diesel due all'ora dai ma corri ma perché ma la mia tastiera ma già se sentite fa un nick 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 ogni tanto lì è la barraspeziatrice di quando salvo dai sti maiali qua mi chiedo dove andare a fare un culo la colonna giù vieni qua vieni qua via ecco la mia roba poi arriva un altro non l'avevo visto ma guarda te che stronzo ma quanto ma quanti scheletri ci sono vabbè l'importante adesso comunque riparte il tempo dai ce la stiamo facendo piano piano guarda adesso intorno giù c'è pieno di blade posso scommettere avevamo preso anche il blaze rod ci devo andare senza roba ma perché 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 ci devo andare senza roba giù ragazzi non me ne frega sto giro il video lo prolunghiamo ma io mi sto veramente si divertendo tra virgolette anche se sono arrabbiato assurdamente per non dire un'altra parola però mi sto divertendo e penso che se mi stia divertendo io ragazzi e il fatto sai cos'è che è il bello che è arrivato un corriere per me proprio adesso allora io stop un attimo il video e arrivo subito bene ragazzi rieccomi lo sapevo lo sapevo meno male però che mi è arrivato quello che stavo aspettando da un bel po' di tempo dai basta che corri su che non sei sulla soul sand come cavolo si chiama quella fra che ti fa andare lento cammina i pattini bisogna fare una mod per i pattini allora torniamo indietro non è la prima è la seconda qua ci sono due scheletri allora ragazzi mi sono perso di nuovo eh ne ho scordato allora uno ma dove cavolo era ma come fa ad ammazzarmi così fresco sto qua facciamo ancora con un altro va si dai se spade qua poi le fonderò ci faremo lo steal vi faccio vedere poi come si fa quando avremo la blast furnace tanto ormai i blazer li abbiamo ammazzati adesso è importante ammazzare gli scheletri cioè li abbiamo ammazzati ormai i blazer ne sono andati dai 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 si blocca di nuovo una lancia di sotto sto cosa avete visto? un po' di minacce l'importante è prendere quegli oggetti lì allora lo scheletro è là quello è quello quello è quello quello velenoso via meno uno meno due dov'è la mia roba? la mia roba dov'è? ce l'ho davanti non la vedo sono sicuro ragazzi mi sto perdendo dice non me ne frega niente ma con il magma slime ah eccole il power tool bene allora dopo questa bellissima avventura andiamo a ammazzare il magma slime e ce ne torniamo bello mozzarella variata oh mi ha dato nemmeno una pallozzola mi ha dato pure lo schiaffetto prima che se ne andasse non mi ha dato manco una pallozzola cosa è sta roba? lea dingot buono via tanto carne ce l'abbiamo in abbondanza torniamocene immediatamente a casa ma di blazer o di uno solo l'avevo preso si? boh mi ricordo che ce ne erano un po' di più vabbè diamo un ultimo occhio qui guardate sono quei classici video che poi prima o poi io ci muoio perché non ne prende più? vedo che si fa non ne prende? oh ma sono miei cattivi vabbè su non mi frega niente voglio tenere a casa adesso mamma ho perso l'aereo mamma ho perso il portale eh vabbè sono andato al portale ragazzi che avventura forse in questa in questa serie ci manca in questa serie vabbè in questo let's play ci mancava un po' di bric cos'è? ah portale ma ho paura anche della mia ombra via a casa non c'è manca la palletta lo slime pasticcico allora ragazzi bene vediamo un po' cosa ci siamo portati dall'inferno chiudiamo le porte dell'inferno ecco ci pareva che ci voleva questo qua allora ci siamo portati una Wither Skeleton School perfetto ci siamo portati la testa adesso non so se una di queste queste teste qua servivano per far spawnare anche il Wither se non mi sbaglio non lo so comunque non lo faremo spawnare per il momento e guardate la facciamo una bella cosa visto che per ricordarci questo giorno la piazziamo qua voilà perfetto e poi ah è vero Wither Skeleton lo scheletto dell'inferno me l'ho scordato che c'era e vabbè abbiamo lo skill ok abbiamo un'armatura questa qua forse è la mia stessa se non sbaglio si e le scarpe qua e le armature non ce le abbiamo ho preso Leadingot che ci servirà abbiamo 10.000 spade di pietra che non ci serviranno ma qualcosa ci faremo abbiamo finalmente preso un Blaze Rod e che ce ne serviranno parecchi quindi scenderemo giù con una spada senz'altro o o con il col power tool con con qualche arma installata e perché adesso me l'ha messa la sopra sopra armatura bene ancora meglio e niente allora ragazzi mi scuso per il prolungamento della puntata ma ci voleva ecco vi ringrazio per la visualizzazione se vi è piaciuto il video mettete mi piace se non vi è piaciuto il video ragazzi non mettete nel mi piace ma commentate così almeno discutiamo un po' e se vi volete iscrivere al canale sarà un vero immenso piacere per me e si è messo anche a piovere ragazzi allora da Mr.Tike è tutto e ciao a tutti ciao a tutti